La vera fede è accorgersi e prendersi cura dei poveri che ci sono accanto. Essi sono Gesù che incontriamo sulla nostra strada nella vita di ogni giorno. Questo è il senso dell'omelia di Papa Francesco alla messa celebrata in casa Santa Marta. Nel Vangelo di oggi è raccontata la parabola dell'uomo ricco che indossava vestiti di porpora e di lino finissimo e ogni giorno si dava all'auto i banchetti senza accorgersi che alla sua porta c'era un povero di nome Lazzaro coperto di piaghe. Il Papa ha invitato a porsi questa domanda. Se io sono un cristiano sulla via della menzogna, soltanto del dire, o se sono un cristiano sulla via della vita, cioè delle opere e del fare. Quest'uomo ricco conosceva i comandamenti, sicuramente andava in sinagoga, ma era un religioso apparente, ha spiegato il Pontefice, un uomo chiuso nel suo piccolo mondo di vestiti e di vanità. Un uomo tanto insensibile da non accorgersi del bisognoso alla sua porta e tanto anonimo che il Vangelo non ne ricorda il nome. Quante volte ci viene di nominare la gente con aggettivi, non con nomi, perché non hanno sostanza. Ma io mi domando, Dio che padre, non ha avuto misericordia di questo? Non ha bussato al suo cuore per muoverlo. Ma sì, era la porta. Era la porta. Nella persona di quel lassaro, che sì, qui aveva nome. E quel lassaro, con i suoi bisogni, le sue miserie, le sue malattie, era proprio il Signore che bussava alla porta, perché quest'uomo aprisse il cuore e la misericordia potesse entrare. Ma lui non vedeva, soltanto era chiuso. Per lui, oltre la porta, non c'era niente. In Quaresima, ha concluso Papa Francesco, ci farà bene domandarci quale strada stiamo percorrendo o quanti ostacoli ancora abbiamo nel cuore, chiedendo al Signore la grazia di vedere sempre il Lazzaro che bussa alla porta del nostro cuore e di uscire da noi stessi con generosità e misericordia. Grazie.